inusuale san valentino per matteo salvini il segretario della lega lo festeggerà con una prima riunione operativa coi ministri lega per i primi interventi a favore di disabili famiglie lavoratori e imprese lo ha annunciato su twitter anche se poi si spera vorrà dedicare qualche ora anche alla sua fidanzata francesca salvini non intende perdere tempo e vuole che i ministri leghisti facciano il massimo per i delicati impegni che li attendono giancarlo giorgetti avrà la responsabilità di uno dei ministeri più importanti quello per lo sviluppo economico decisivo per i dossier riguardanti le imprese toccherà a massimo garavaglia creare la struttura per il ministero del turismo che non sarà più una dependence di quello dei beni culturali e potrà direttamente impegnarsi a tutela del settore a partire dalla lotta alla direttiva bolkestein poi il tratto di solidarietà necessaria per milioni di uomini e donne disabili con il ministero nuovo di zecca affidato ad erica stefani salvini chiede risultati immediati ai suoi e controllo nel coordinamento di governo per le attività degli altri ministeri insomma un impegno a tutto campo per pretendere il cambiamento reale rispetto ai fallimenti del governo conte ed è evidente che saranno particolarmente sorvegliate le iniziative che assumeranno i ministri che stavano proprio nel precedente esecutivo lotta e governo si coniugano anche così grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti